Sara Mister, Maria Rosale De Pietro, Ritti Calabria. Oggi ci troviamo a commentare la prima sconfitta da quando tu sei arrivato. Un po' a tratti la squadra è andata però ha trovato davanti a sé un Cerignola che se l'è venuta proprio a giocare diciamo proprio in maniera diretta questa partita e qualche giocatore è sembrato un po' sottotono. Beh sì tutte le partite che abbiamo fatto anche se per noi la classifica è ben delineata però tutte le squadre che sono venute qui avevano un obiettivo ben preciso Cerignola compreso quindi Cerignola è venuto a fare la sua partita la conoscevamo ne aveva fatte tante così quindi noi abbiamo avuto anche un discreto dominio del gioco soprattutto il primo tempo perché comunque le squadre avversarie si difendono compatte e basse abbiamo fatto anche tante cose fatte bene però abbiamo giochicchiato non abbiamo giocato quindi siamo stati lì sì ordinatini bellini carini però mancata la cattiveria degli ultimi 20 25 metri o in tutte e due le aree fa la differenza risultato fa differenza la qualità della prestazione quindi tante cose che abbiamo allenato i ragazzi provano a farle tutto però oggi è mancata quella cattiveria per fare veramente risultato cosa che il col taranto avevo visto un po di più anche l'esultanza del gol era la dimostrazione l'ho fatto anche vedere oggi comunque mancata quello è mancato assolutamente quello perché sono nel primo tempo potevamo sicuramente sfruttare qualche palla in più siamo arrivati tante volte vicino all'area avversaria ma non siamo mai stati veramente incisivi così come il secondo tempo poi l'ultimo quarto d'ora un po per i cambi fatti ma non per qualità dei giocatori ma perché comunque metti carbo che una seconda punta rispetto ad enrico e quindi la squadra un po sallunga e cegnola ha trovato un po di spazi ma ha trovato il gol in maniera anche casuale penso non mi ricordo tanti ha fatto gol nel secondo tempo quando venite forse l'avrebbe meritato in qualche contropiede nel primo però ecco io tante cose fatte bene però non posso essere contento perché la squadra invece di aver giocato ha giochicchiato e con queste partite non è sufficiente assolutamente non è sufficiente eccomi blackout possiamo dire un blackout oggi sì tranquillamente risultato sì la prestazione primo tempo così così secondo tempo un po ma soprattutto io sono un po come dire preoccupato perché lo sai come la penso io su questo finale campionato però quelli che entrano credo che non non so perché io ho visto carbo veramente oggi negativo e anche gli altri soprattutto dalla panchina insomma non hanno dato quella cosa che tutti si aspettavano mentre dall'altra parte chi è entrato forse ha cambiato la gara invece da parte della parte del prodotto che è entrato un po diciamo ha fatto un po fatica io io facciamo così dico che non do responsabilità a chi entra perché so che a volte entrare è difficile entri in partite difficili quindi non è così scontato che chi entra possa fare la differenza se qualche giocatore pensa di non essere titolare qui e calare un pochino di questo lo sono sono responsabile io quindi il mio compito è quello di cercare di fare come dico sempre non solo a chiacchiere ma anche coi fatti però bisogna essere in due quindi ogni giocatore deve pensare che può essere importante i 5 minuti 10 il quarto d'ora la partita c'è da far titolare questo è solo questo penso che un gruppo possa diventare vincente ma non parlo della partita di oggi abbiamo trovato delle difficoltà oggettive e comunque palleggiamo abbastanza alti quindi lo spazio per carbo visto che hai citato carbo è un po meno rispetto a quello che di solito siamo abituati o siete abituati a vedere carbo ha fatto due o tre tagli anche discreti nel secondo tempo quindi è chiaro che nei spazi stretti bisogna essere fare qualche minuto in più forse per trovare la posizione quindi non è quello però è un monito che dirò che dico adesso ma che dirò alla squadra cioè se si vuole essere una squadra importante tutti ci dobbiamo sentire veramente importanti ma non perché lo sto dicendo io che sono il loro allenatore e loro mi dicono sì sì è vero sì no è la dimostrazione che loro devono dimostrare sul campo tutti gli allenamenti quando ci sono le partitine tra di loro devono giocarsi la competizione interna se si crea una sana competizione interna dopo la domenica si vedono i frutti però di questo non sono preoccupato perché comunque altre partite era successo al contrario e quindi non sono preoccupato dispiace oggi perché è arrivata la prima sconfitta perché comunque in quelle partite in casa come abbiamo fatto col Taranto ci tenavamo per trasmettere entusiasmo al nostro pubblico che anche alla fine oggi al primo coro ha detto siamo con voi quindi la dimostrazione è sempre alta abbiamo fatto una partita secondo me anche una buona partita sotto il profilo del palleggio estetico però non basta assolutamente cioè per me la parola giochi chiare fa l'esempio nel senso che abbiamo perso troppi palloni i giocatori che insomma hanno il compito di giocare gli ultimi 20 25 metri quando si fanno tanti errori non può venire fuori il risultato quindi questa è una partita che secondo me ci analizzeremo bene c'eravamo parlati anche prima della partita più si va verso il finale di campionato e più può calare un po' l'adrenalina delle partite e oggi poi prima delle feste è successo quello che è successo quindi di questa sconfitta dobbiamo subito prendere il bicchiere come si dice mezzo pieno e a parlare e confrontarsi con i giocatori perché questo non debba più succedere ma la squadra ha giocato ma ha giochicchiato e non è sufficiente le partite non le vinci giochicchiando minister faccio gli auguri di Pasqua prima altrettanto se no poi sembra brutto rispetto a quello che sto dicendo e lo faccio anche soprattutto ai singoli calciatori però la voglio dire proprio adesso che non conta io credo che la responsabilità sia soprattutto fra quei titolari di oggi e mi riferisco a un tema che abbiamo affrontato tante volte che quello dei terzini parto da lì perché queste partite al di là delle motivazioni siccome fra i laterali parliamoci chiaro sono quelli meno titolari quelli che potrebbero essere a parte mogos così facciamo nomi e cognomi dovrebbero essere quelli con le motivazioni più adeguate per riuscire a far salire di tono una squadra che qualità ne ha ma abbiamo già detto un milione di volte fra anche la mediana con il probabile rientro di agua di tutti quei calciatori e sinceramente io personalmente sono molto deluso oggi che non hanno il posto fisso per svariati motivi se non si trovano è ovvio che lei il principale responsabile se non riesce a far trovare le motivazioni a questi calciatori ma mi faccio tramite con lei per dire a questi altri calciatori che al di là delle motivazioni del punteggio il proprio il cercare di essere almeno un po' caraggiosi in queste gare se non ce l'hanno qui non l'avranno ce l'avranno ancora di meno di quelli di Don Abbondio è una mia sono troppo duro oppure è un messaggio che può essere il messaggio giusto? no ma il messaggio il messaggio che tutti devono fare qualcosa in più per conquistarsi la maglia titolare è una regola che in qualsiasi spogliatoio esiste punto se è un po' duro sì perché per dire tu abbiamo parlato di terzini Mogos è un giocatore importante per questa squadra ha fatto categorie importanti per personalità sta rientrando da questi suoi mesi un po' alternate allora cerchiamo di farlo giocare tutte le partite Calapai è entrato penso che abbia fatto in un quarto tra 20 minuti 5 6 grosse Crialese domenica scorsa è stato uno dei migliori e quindi Gironne comunque quando ha giocato ha fatto bene ti li ho detti tutti e poi c'è Richie Spaltro che ha fatto poche apparizioni per essere presso questa è la rosa dei terzini vado proprio nello specifico quindi non mi sembrano loro il problema della giornata di oggi fino alla fino a oggi la squadra non aveva mai perso anche col tanto che oggi ha vinto 3 a 0 col Pescara quindi domenica scorsa sembrava che giocassimo contro una squadra molto debole ma non è così quindi ridà valore un po' la partita scorsa oggi te l'ho detto secondo me oggi la squadra ha giochicchiato perché ha avuto il dominio del gioco il primo tempo io mi ricordo che abbiamo preso due contro Viedi ma la palla ce l'hai te però negli ultimi 20 25 metri è è mancata è mancata completamente quelle fanno la differenza c'è stata la punizione di Chiricò che probabilmente se avessimo fatto col cambiava la partita perché loro avrebbero fatto un altro tipo però i sei ma lascia il tempo che trova abbiamo sbagliato troppi palloni negli ultimi 25 metri secondo me è quello lì caratteristica caratterizza risultato e prestazione quindi abbiamo perso troppi palloni tante tanti giocatori abbiamo perso quando si fa un po di score palle palle giocate palle perse se ogni giocatore ne perde più della media e la prestazione viene un pochino negativa quindi non parlo solo della squadra parlo delle motivazioni quindi se la squadra non riesce a trovare quello è vero che l'allenatore staff e tutto la società io per primo si sente responsabile di questo però comunque bisogna essere anche in due insomma io ho fatto anche il giocatore quindi le motivazioni quelle famose intrinseche servono e poi c'è l'accompagnamento di tutto il resto e quindi sicuramente io come non mi sono esaltato quando abbiamo fatto delle buone partite prima perché non c'è niente da esaltarsi sinceramente sono dispiaciuto per risultato perché perdere in casa davanti alla gente che vogliamo conquistare per portarla ai playoff non fa mai bene però volto pagina e voltiamo pagina ne andiamo avanti sicuramente però questa è una partita che analizzeremo perché vogliamo arrivare pronti veramente ma con un atteggiamento chiaramente da da voler vincere oggi abbiamo giochicchiato lo ripeto per chiudere mai giochicchiato e giochicchiato sera si sente sì sì ora sì la mia sensazione personale è che questa squadra non riesce a essere costante nella singola prestazione e in tutte le prestazioni come vai beh io ricordo sempre che parlo in generale non parlo di me la squadra ha perso quattro volte sono poche quindi non parlare di costanza una squadra che perde quattro partite è una parola un po forte poi sicuramente ci si aspetta sempre tanto dalla squadra che vuole vincere ci si aspetta sempre tanto quindi il quarto d'ora di una partita i 20 minuti una partita a una squadra che gioca a vincere non gli si concedono quindi andiamo a vedere anche quel quarto d'ora è così chi vuole giocare per vincere giocatore società allenatore gioca con delle pressioni diverse tra chi si deve salvare chi si deve salvare può passare 80 minuti entro un'area ed è apprezzato chi gioca deve cercare di imporre il gioco di trovare le soluzioni vincenti quando manca questo si è molto critici ma ci sta è normale perché chi vuole vincere deve sapere che può stare anche deve stare dentro le critiche quindi secondo me oggi è un risultato però non è che la partita di oggi cancella tutto quello di prima questi ragazzi hanno perso quattro partite compresa quella di oggi in un campionato quindi parlare di non di incoerenza della squadra o di non continuità faccio fatica ad essere d'accordo grazie a tutti va bene ciao ragazzi auguroni a tutti chiaramente